Benvenuti all'ultima edizione di Calabria News 24 in forma. In apertura la cronaca operazione murales il GIP convalida i 25 fermi. Un fermo quello avanzato dal sostituto procuratore della Repubblica di Paola Anna Chiara Fasano per le 25 persone che secondo le ricostruzioni avvalorate da una serie di intercettazioni telefoniche ambientali così come evidenziato in sede di conferenza stampa venerdì gestivano un importante traffico di sostanze stupefacenti. Una rete di distribuzione, hashish, marijuana, cocaina, che coinvolge l'intero Tirreno-Cosentino e alcuni dei locali più frequentati della costa, ma che arriva, secondo alcune indiscrezioni, fino a Rosarno. Oltre ai provvedimenti di fermo di indiziato di delitto firmati dalla dottoressa Fasano, questa aveva inoltre chiesto il divieto di colloquio tra gli indagati illegali e d'incontro tra detenuti, per evitare di concordare strategie processuali. Nella giornata di sabato e lunedì il GIP per le indagini preliminari, la dottoressa Maria Grazia Elia, ha ribadito la richiesta dell'applicazione della misura cautelare e disposto allo sblocco del provvedimento di divieto. Sette arresti in carceri, i nomi sono quelli legati al clan muto di Cetraro, dieci ai domiciliari e otto all'obbligo di firma alla polizia giudiziaria. Definita dalle stesse forze dell'ordine, operazioni in rosa, perché sei sono donne che svolgevano ruoli di spicco, ha visto il convergimento anche di una minorenne, affidata al Tribunale dei minori. Sviluppi e aggiornamenti nei prossimi giorni. Una serie di indagini, effettuate costantemente ormai quotidianamente, posti di blocco fissi, sono ormai localizzati nelle aree calde del Tirreno Cosentino. Un filo rosso che vede intrecciare alcune delle operazioni delle forze dell'ordine della DDA di Catanzaro più importanti degli ultimi anni, che da Plinius arrivano a frontiera, disegnando un quadro realisticamente drammatico. Il garante per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Calabria, Antonio Marziale, visita il carcere minorire di Catanzaro. Tra qualche giorno noi festeggeremo la nascita più importante nella storia dell'umanità. Allora credo che sia dovere, per un garante dell'infanzia, ma io credo un dovere per tutta la comunità sociale e civile, badare anche alla rinascita. E non c'è luogo di rinascita più significativo di un istituto penale minorile, dove ci sono ragazzi che hanno sbagliato, dove ci sono ragazzi che stanno pagando il loro prezzo alla giustizia, ma dove ci sono ragazzi carichi di attesa e di speranza che devono essere necessariamente risocializzati. Un giorno torneranno nel mondo ed è bene cominciare a far capire loro che c'è fuori chi li aspetta nel mondo. È un istituto penale minorile, questo di Catanzaro. Permettetemi di dire, vorrei che meglio non ci fosse stato mai bisogno di averlo, ma visto che c'è, diciamo che è un fiore all'occhiello e di tutto questo per la nostra Regione, ma un fiore all'occhiello per la giustizia minorile nel nostro Paese, grazie al lavoro di chi ogni giorno qui opera. Primo fra tutti il direttore Francesco Pellegrino, che ringrazio per questo suo quotidiano stare vicino a questi ragazzi. Mi piacerebbe che arrivasse alla Calabria dietro questo gesto il messaggio di come questi luoghi debbano essere considerati luoghi di attesa, luoghi di recupero e non essere marginalizzati nella percezione culturale che noi abbiamo di essi. Quindi sono venuto a fare gli auguri ai ragazzi, ricordando a me stesso l'importanza che do a questo istituto perché è stata la mia prima visita ufficiale quando nell'aprile scorso mi sono insediato come garante per l'infanzia. E restiamo a Catanzaro dove è stato siglato un importante protocollo d'intesa per il contrasto all'occupazione abusiva degli immobili. Ai nostri microfoni ascoltiamo Luisa Latella, prefetto di Catanzaro e Roberto Musmanno, assessore regionale. Questa attività di fatto è già iniziata da qualche mese, ha avuto anche dei buoni risultati, è un'attività che abbiamo concordato con la regione Calabria, l'ATERP e ovviamente il comune di Catanzaro che è il primo in Calabria a sperimentare questo nuovo metodo e le forze di polizia, i vigili del fuoco che sono essenziali in questa procedura. Sostanzialmente si è partiti con un accensimento delle occupazioni abusive nei quartieri sud della città che come sappiamo sono i quartieri più a rischio. L'obiettivo è duplice, da una parte quello di riportare la legalità in questi settori perché gli alloggi abusivi hanno anche possibilità di essere autorizzati per scopi assolutamente diversi rispetto a quelli abitativi. Nello stesso tempo ridare la possibilità ad ATERP e Regione Calabria di poter riacquistare un patrimonio perso per poterlo riaffidare a chi ne ha effettivamente bisogno e diritto soprattutto. È un passaggio importante perché oggi sigliamo un protocollo d'intesa che vogliamo utilizzare come base di riferimento da esportare in tutto il territorio regionale. Lo ha chiarito il prefetto. L'obiettivo è quello di ripristinare le norme e le regole che ci consentono il vivere civile anche a queste latitudini. Noi abbiamo un problema grandissimo con le nostre ATERP, vale a dire anche problemi economici che si riflettono, vale a dire un'occupazione diffusa e pervasiva a livello abusivo delle abitazioni che sono nate allo scopo di fornire servizi alle fasce più deboli e quindi coloro che oggi purtroppo non possono soffrire di questi alloggi perché sono occupati anche abusivamente. Quindi si tratta di una ricognizione puntuale che ha seguito in particolare la prefettura di Catanzaro con la collaborazione di tutti, non solo della Regione ma anche del Comune, dell'ATERP e delle Forze dell'Ordine. A Vibo Valencia è partita la giornata dello sport. Per Giovenale, poeta ed esperto d'arte oratoria, vissuto a Roma a cavallo dell'anno 100, solo il sapiente vero si rende conto che ricchezze, fama e onore sono effimeri e talvolta anche dannosi. Per lui l'uomo dovrebbe aspirare a due beni soltanto, la sanità dell'anima e la salute del corpo, che vanno a braccetto. Da qui la locuzione, mensane, incorpore sano. Queste poche parole latine sono arrivate ai fini giorni nostri, tanto che sono diventate il life motive della giornata dello sport, che si è celebrata presso il liceo scientifico Giuseppe Berto di Vibo Valencia all'interno della manifestazione di orientamento per tutti gli studenti vibonesi, vista la presenza all'interno dell'istituto dell'indirizzo di studio specifico. Grazie alla collaborazione dei docenti di discipline motorie, coordinati dai professori Carmine Cavallara e Carlo Lico, il liceo Berto ha ospitato varie associazioni sportive presenti sul territorio, che hanno permesso agli alunni, ma non solo, visto che l'ingresso era aperto a tutta la cittadinanza, di conoscere il badminton, il mini tennis, le arti marziali, il patinaggio, la scherma, il pugilato, il free climbing, l'equitazione, la pallavolo, il calcio 5 e il ping pong. Tra le attività previste, anche i tornei di calcio e pallavolo in ricordo degli alunni Nicolo Grillo e Benedetto Bilotta, nonché il torneo di tennis in memoria del professor Pino Graziano. A dare un tocco in più, la presenza di alcuni ragazzi extracomunitari minorenni, che in nome di una reale e costruttiva integrazione, hanno preso parte, come gli altri, alle attività previste. Sperimentando sport che non avevano mai potuto praticare nei rispettivi paesi di origine. Allora, quest'idea è nata perché con la dirigente abbiamo voluto fare una bella integrazione sociale con questi ragazzi di colore, farsi confrontare, considerate che questi ragazzi sono tutti minorenni, quindi li abbiamo portati qui a socializzare, a farli partecipe delle nostre iniziative che si fanno al liceo. Hanno voluto partecipare a tutti i vari tornei di pallavolo, pallacanestro e calcio e tennis da tavola. Devo dire che sono stati in gamba perché a calcetto ci hanno anche vinto, quindi bravi questi ragazzi del Senegal. Le società reggbistiche calabresi hanno incontrato Salvatore Perugini, vicepresidente nazionale della Federazione Italiana Rugby. Salvatore Perugini, vicepresidente nazionale della Federazione Italiana Rugby, oltre che indimenticato pilone del 15 Azzurro, è stato in Calabria per incontrare le società reggbistiche calabresi. Un incontro che rientra nella politica della Fiera del Presidente Gavazzi, il quale subito dopo la sua riconferma Presidente ha avviato questa pratica con le varie società, oltre che per attestare la vicinanza della Federazione, serve soprattutto a supportare il loro operato. Sicuramente ci sono delle realtà importanti che lavorano molto sul reclutamento e si occupano dei giovani, come ce ne sono altre che si dedicano invece alle prime squadre, al rugby senior. Questo è importante per la Federazione in entrambi i casi ed è estremamente importante. Noi come federazione abbiamo il compito e il dovere di allargare la base. La notte di Santa Lucia tra tradizione ed enogastronomia, una festa che si svolge ogni anno a Froscineto. Ce ne parla Serenella Chiodi. Ci sono dei luoghi quasi senza tempo in cui le tradizioni sono state riprese per essere scoperte dai più giovani e confermate nella certezza in cui affondano le radici dagli adulti, fuochi che scaldano non solo l'ambiente ma soprattutto il cuore e poi i cibi, di quelli fatti in casa come un tempo e la generosità dell'accoglienza mentre i falò continuano a bruciare fra canti popolari e religiosi in lingua arbrex e quanto accaduto per la notte di Santa Lucia nel comune di Froscineto in cui il palio dei Piccamini ha visto sfidarsi a suon di generosità diversi quartieri dove avvincere e la riconferma di quanto ciò che si è a volte parte da molto lontano e si ripropone per non dimenticare, per non dimenticarsi. Io credo che sia un'azione doverosa da parte nostra riscoprire e valorizzare queste antiche tradizioni che sono legate alla tradizione sia liturgica che della tradizione popolare dei falò di Santa Lucia. Questo è lo scopo della nostra iniziativa che è quello di tramandare, di coinvolgere i ragazzi non solo nel solco della tradizione ma anche in uno spirito di continua collaborazione con le nuove generazioni che devono capire il radicamento che hanno le tradizioni in tutto quello che succede nel territorio e in particolare specie nella nostra piccola comunità a Frascinetto che è una comunità di etnia arbresce che come in uno scrigno gelosamente conserva tutte queste tradizioni che coniugano la tradizione popolare con i liturgici della tradizione bizandina. Il teatro comunale di Cassano all'Oionio ha ospitato un artista molto apprezzato parliamo di Cristiano Godano dei Marlene Kunz. Cristiano Godano dei Marlene Kunz si racconta fra musica e parole presso il teatro comunale di Cassano Ionio in una formula teatrale che sta a metà tra lo show e l'intimità che chitarra e voce possono rendere. Organizzata dal Movimento Culturale M3 e supportati dall'amministrazione comunale la serata ha visto il coinvolgimento di un pubblico molto competente che guidato dalle note di Godano ha saputo restituire tutta la gratitudine per i suoi 25 anni di carriera nel panorama del rock italiano. Credo che sia stata una serata gradevole in questo gradevolissimo teatro di Cassano che si prestava particolarmente per questo tipo di approccio intimo e trattenuto. musica, chitarra acustica, voce, un piccolo teatro però tu ti attenti ad ascoltare? Sì, a me non mette in difficoltà il silenzio, non mi inibisce, io sono un rockettaro prima di tutto quindi sono abituato al caos del decibel delle chitarre distorte, della batteria che picchia però sono anche molto attratto invece dalla dimensione intima quando i Marlene e Kunza hanno fatto quelle due tournée che hanno fatto nei teatri quando la gente sta in religioso silenzio, più che altro perché si trova in un ambiente con una sua sacralità in un teatro non ti viene di essere scalmanato, ti viene di stare seduto e composto a me piace, mi stimola, mi stimola tanto quanto posso essere stimolato dal vedere la gente che balla quando facciamo i concerti più intensi però sono due approcci che mi gratificano allo stesso modo e per oggi è davvero tutto io vi aspetto domani a partire dalle ore 11 sempre qui sul canale 90 del Digitale Terrestre grazie per essere stati con noi e auguro a tutti una buona serata